È questo post su Facebook a scatenare le ire dell'assessore allo sport del comune di Arezzo Federico Scapecchi e far sì che di fatto si concretizzi l'ennesima puntata di una querelle che sembra davvero infinita sulla piscina comunale. Nella foto prima pubblicata e poi oscurata si notano una decina di persone in uno degli uffici del palazzetto del nuoto in compagnia del figlio dell'attuale gestore Marco Magara. Ovviamente non è certo che la pubblicazione coincida con il momento esatto della riunione, potrebbe anche essere una provocazione. Faremo le nostre verifiche, afferma l'assessore, non possiamo certo avere la certezza che questo post coincida con il momento effettivo della riunione. Se ciò risulterà vero, oltre ad essere un fatto increscioso e indecoroso, sarà anche un valido motivo per il quale il comune potrà chiedere la decadenza della concessione. Scapecchi sembra dunque annunciare un passo avanti nella crisi in atto mostrando l'intenzione di far verificare agli organi preposti quanto accaduto e se fosse confermato potrebbe scattare, sempre secondo l'amministrazione, l'ennesimo valido motivo per interrompere la concessione che lega l'attuale gestore alla struttura fino al 2042. Se il gestore pensa di poter fare il proprio comodo in un impianto pubblico, ha sbagliato e di grosso, conclude Scapecchi, la pazienza è finita.